E combatte di notte e grida con te, non è fine ma pianto di fragilità Ho sentito la canzone? La trovo molto fresca, molto attuale, sicuramente in linea con il mondo del teatro, del musical, inoltre in relazione al lavoro che si terrà in seguito la trovo molto aperta nel senso che lascia molto spazio di interpretazione e alla sperimentazione perciò la trovo decisamente un buon punto di partenza per un progetto futuro